A quattro mesi dal debutto il mondo di Pannunzio si presenta ufficialmente a Torino. Ci troviamo per parlare della nostra redazione, dello spirito che ci anima, del modo con cui intendiamo affrontare la cronaca, la cultura, la filosofia, l'arte, la società, i temi di questo prodotto dichiaratamente culturale che si richiama nello spirito e anche in parte nella grafica al glorioso mondo che Pannunzio creò. Proprio per questa ragione noi abbiamo deciso, ospiti del professor Quaglieni, di fare questo nostro primo incontro nella sede del centro Pannunzio di Torino che il mondo di Pannunzio rappresenta nel migliore dei modi. Ma è anche l'occasione per presentare il nostro nuovo logo. Abbiamo chiesto all'artista torinese più conosciuto da tempo, che è Ugo Nespolo, di fama nazionale e internazionale, non devo certo presentarlo io, di fare un refresh, fare una reinterpretazione di quello che era lo storico logo del mondo, un logo al quale siamo tutti legati anche effettivamente, ma che meritava, a tanti anni di distanza, un'interpretazione. Insieme a Guido Barosio, che è il direttore, abbiamo deciso di riportare in vita questa storica testata utilizzando quelli che sono i codici espressivi del mondo di oggi. Quindi il nostro mondo, partendo da questa gloriosa esperienza del dopoguerra, è il nostro mondo, quindi il mondo rappresentato per quello che è oggi. Speriamo di ottenere un risultato voluto, abbiamo tra i nostri collaboratori molti bravi professionisti, molte penne importanti, quindi vi chiediamo di andare a curiosare sul nostro giornale, che trovate all'indirizzo www.dipannunzio.it e buona lettura a tutti. Da grande appassionato di editoria, da direttore del Salone del Libro per molti anni, il fatto che si sia ripreso una testata così importante come il mondo di Pannunzio, perché siamo qui, insomma, a casa di Pannunzio, a raccontare come si può fare una testata oggi nel contemporaneo, un atto insieme di grande coraggio e anche di forte grazia estetica, perché da un lato ci vuole in questo momento la capacità di ipotizzare delle cose nuove da fare, come modalità, e sicuramente la modalità di far leggere attraverso la newsletter una quantità di articoli molto belli, molto lunghi, molto approfonditi, quindi di lavorare sull'approfondimento è un grande merito. E contemporaneamente però questa cosa che è innovazione si lega a uno spirito di tradizione, cioè di farci ricordare che questo spirito cominciò appunto negli anni 50 con l'idea di aprire le vedute e di, insomma, quindi riprendiamo una testata veramente meravigliosa e cerchiamo di portarla nel contemporaneo. Credo che sia una sfida molto importante, interessante, soprattutto per Torino, soprattutto in questo momento.